Grazie, grazie Presidente. Ma io oggettivamente faccio abbastanza fatica a commentare questa proposta di legge che si propone di inserire il riconoscimento del valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico e dell'attività sportiva in tutte le sue forme. A dire il vero io non volevo neanche crederci quando ho saputo che al Senato, non più tardi di due o tre mesi fa, si stava lavorando per inserire questa modifica in Costituzione, mentre in contemporanea quelle stesse persone che ipocritamente inserivano la tutela dell'attività sportiva in Costituzione negavano in maniera vile, folle e antiscientifica l'esercizio dell'attività sportiva a decine di migliaia di ragazzini minorenni nelle palestre, nelle scuole e ovunque, solo perché non vaccinate. Allora come si fa da una parte a negare lo sport, a dire a questi ragazzi, a questi giovani tu non puoi fare sport ma è per la tua salute e dall'altra poi pomposamente, ipocritamente a inserire questo principio generico e con nessun risvolto concreto nella Costituzione. Allora qui c'è un esercizio ormai che è abbastanza frequente e costante nel tempo di utilizzare la Costituzione per pulirsi la coscienza delle proprie malefatte, quando è evidente che al di là di quello che c'è scritto nella Costituzione, se al Governo ci stanno dei banchieri che non hanno alcuna sensibilità sociale, alcun rispetto, alcuna sensibilità democratica, è totalmente inutile. Qualsiasi cosa ci sia nella Costituzione, la Costituzione viene sospesa nel momento in cui al Governo ci stanno i banchieri. Questo è davvero infatti il colmo dell'ipocrisia in questo momento storico, in un periodo in cui anche quello che abbiamo visto, l'esito delle urne che è uscito non più tardi di ieri, due giorni fa, ci dice chiaramente che il popolo italiano non si sente rappresentato da questa maggioranza, da questa classe politica, da questo arco parlamentare totalmente ipocrita, che sta reggendo il sacco ai banchieri mentre svendono questo Paese, che è accettato di farsi commissariare e che è totalmente indistinguibile, ormai non esiste più differenza fra un partito e l'altro al punto che un italiano su due non va a votare. Allora in queste condizioni prendere la Costituzione di mira con queste modifiche, con questi interventi che sono degli spot veramente elettorali, significa veramente non riconoscere il vero problema che c'è in questo momento nel nostro Paese, che è invece un problema di tutt'altro segno, non certo quello di cambiare la Costituzione ma di rispettarla e di attuarla, perché altrimenti non ha alcun senso mettere queste generiche enuncezioni di principio nella Carta Costituzionale, se poi dall'altra parte si fa l'esatto contrario. Allora noi veniamo da mesi di restrizioni folli che non avevano alcun ghe di scientifico, che sono state portate avanti solo per rifocillare la lobby di turno, in questo caso la lobby del farmaco, con dei vaccini inutili, accanimenti, terze e quarte dosi, super green bus per quei ragazzini che volevano fare sport e che magari si sono ritrovati anche a subire delle discriminazioni nei luoghi scolastici, magari hanno avuto anche ripercussioni nella loro psiche e sono finiti in depressione. Io ho ricevuto un sacco di lettere da parte di genitori preoccupati, allarmati, perché in questo Paese il diritto anche all'attività sportivica, al benessere psicofisico veniva costretto, veniva vietato e precluso in nome di una folle teoria del rispetto della tutela della salute e oggi però cosa succede? Martoriamo la Costituzione, mettiamo ancora un principio inutile, generico e pomposo che non porterà nulla di concreto nella Costituzione per lavarci la coscienza. Allora io penso che voi più state lontani dalla Costituzione meglio è, più state lontani dalla Costituzione meglio è, perché non possiamo certo prestarci a questo gioco totalmente propagandistico di modificare la Costituzione per pulirsi la coscienza rispetto alle vostre gravi responsabilità. Per questo motivo noi ovviamente condividiamo il principio, ci mancherebbe bello scrivere nella Costituzione che la Repubblica promuove, tutela l'attività sportiva, il benessere psicofisico, tutto quello che volete è bellissimo, ma se lo fate voi, che siete i più grandi ipocriti della storia di questa Repubblica, noi non possiamo essere i vostri complici. Quindi per questo motivo Alternativa si asterrà rispetto a questa modifica costituzionale l'invito che noi vi facciamo è rispettare la Costituzione, perché quando al Governo ci sono delle persone violente, autoritarie, che non hanno alcuna sensibilità democratica è totalmente inutile modificarla se poi non riusciamo nemmeno a rispettare i diritti fondamentali dei cittadini.